L'Azzurra, 2,955 per la Ferrazzi, ha le parallele e ha il volteggio, 9,40 alla trave e ripetiamo, 8,85 al corpo libero. La Andronic, la Romena, ha le parallele. La Andronic è stata quella tra le Romene a ottenere il più alto punteggio nei quattro esercizi nel totale, ma ribadiamo, graduatoria a squadre e graduatoria per specialità.